Ad Angrigento, alla Consorzio Universitario, in via Quarta Raro, nell'aula Luca Crescente, si è svolto un seminario su consulenza tecnica e perizia grafologiche, dalla firma tradizionale a quella grafometrica, promosso dall'Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con le associazioni RUM e Contrariamente. L'incontro a cui hanno partecipato docenti ed esperti del settore ha inteso svolgere una approfondita riflessione sull'importanza assunta dalla grafologia in ambito giudiziario, preziosa soprattutto per la verificazione di falsi e scritture contraffatte. Questo seminario che si tiene stamattina si colloca nell'ambito di alcune attività formative di contesto del corso di studi di giurisprudenza. Abbiamo pensato di introdurre un approfondimento mirato su questo argomento, quindi su perizia grafologica e sui sviluppi più recenti di queste attività degli esperti. Ne parleremo nel contesto sia del processo penale sia del processo civile, proprio per fare un focus mirato che punti alle novità che vengono offerte nell'accertamento di carattere scientifico. Questo seminario è rivolto a tutti gli studenti di giurisprudenza che frequentano questa prestigiosa università e daremo loro delle informazioni su una evoluzione che sta prendendo piede in questi anni nel nostro territorio, che è l'avvento della firma grafometrica in sostituzione della firma cartacea. Tutti quanti hanno un'esperienza oggi di essere andati dentro un ufficio pubblico, alle poste, in banca e di aver firmato sul tablet. Quella firma lì viene percepita come se fosse un qualcosa simile alla firma su carta. In realtà è un mondo nuovo che si apre, un mondo che è basato sulle tecniche informatiche, sull'elettronica ed è un mondo che chiede delle competenze nuove, delle conoscenze nuove. Quindi questi ragazzi che si stanno formando e che hanno davanti un futuro, vi auguro per loro di bravissimi avvocati con degli studi che magari nel prossimo futuro dovranno occuparsi anche di questa cosa, li stiamo facendo nascere e crescere un pochino insieme a noi con i primi passi che si fanno in questa materia. Cercheremo di spiegare in maniera un po' più tecnica e con delle dimostrazioni pratiche quella che poi è non soltanto la firma grafometrica ma le implicazioni che questa ha poi anche a livello legale ovviamente approfittando del fatto che siamo ospiti dell'Università di Agrigento per cui fargli vedere in maniera pratica quella che poi è la firma apposta sulla classica tavoletta piuttosto che sullo smartphone che ragazzi ormai sono abituati a fare quasi quotidianamente. ...tecnico che è un soggetto vicino alla parte... ...tecnico che è un soggetto vicino alla parte... ...tecnico che è evidente... ...tecnico che è un soggetto